Grazie Presidente. Vorrei fare alcune domande al rappresentante delle Regioni che rimarrò sul tema sanitario. L'ho detto in precedenza, ci sarebbero tantissime questioni su cui mi piacerebbe intervenire, ma vista anche il fatto che molte altre materie saranno sicuramente affrontate dagli altri colleghi, preferirei rimanere in questo settore. Ora, il rappresentante delle Regioni, il Presidente della Commissione Bilancio, ci ha fatto un esame della sua valutazione in merito a questa legge per quanto riguarda il sistema sanitario, che mi ha abbastanza sorpreso conoscendo nel dettaglio la nota mandata dalla Commissione Salute della Conferenza Stato-Regioni. La Commissione Salute della Conferenza Stato-Regioni ha espresso grandissima preoccupazione per il livello di finanziamento del fondo sanitario. La nota e la relazione che ci ha fatto l'ufficio del bilancio della Camera prima ci ha dato un tendenziale che ci porta a meno 821 milioni di finanziamento per il 2021, senza considerare le spese oggettive che sono rimaste ineluse. Pensiamo al finanziamento del rinnovo dei contratti dei medici, il tema del payback che lì fermo con un foramento della spesa ospedaliera di circa un miliardo e quattro, oltre la necessità ovviamente di provvedere non solo al rinnovo ma alle nuove assunzioni contrattuali. E nella legge di bilancio presentata il rinnovo dei contratti è anche legato o non si comprende bene se ha un fondo generale per la pubblica amministrazione, ma nell'articolo che stanza è 50 milioni per le liste d'attesa è legato agli investimenti e non al conto capitale. Quindi abbiamo veramente una serie di problematiche che sono rimaste ineluse. Ritornando però alla relazione della Commissione Salute, ci pongono queste questioni. Quindi in primis il livello di finanziamento del fondo. Nella relazione anche dell'UPB si vede che si arriverà nel 2020-2021 a un livello rispetto al PIL del 6,2%. Il 6,2% è un livello non da paese occidentale. Noi siamo attualmente al 6,6%, siamo al minimo possibile perché al di sotto di questa quota si viene considerato paese non sostenibile dal punto di vista dell'assistenza sanitaria. Per fare un esempio, i nostri partner europei, a noi più simili, Germania, Francia, Spagna, navigano tra il 9% e l'11% del PIL. Non parliamo degli Stati Uniti che hanno un finanziamento, nonostante un sistema completamente diverso dal nostro, con cifre molto e molto più grandi. Quindi qui siamo veramente a un livello di non sostenibilità, per cui un intervento e una manovra di questo genere, Presidente, poteva essere comprensibile solo se noi ci trovavamo in un caso di recessione con una legge di bilancio assolutamente drastica, come quella che ahimè abbiamo già affrontato nel 2011-2012, abbiamo visto poi negli anni successivi cosa significava, ma non certamente in una manovra di bilancio che ci porta al 2,9% di deficit, con 16 miliardi aggiuntivi allocati di spesa pubblica. È incomprensibile in un settore come questo, delicatissimo, che riguarda la vita e la sostenibilità delle persone più fragili della nostra società, e cioè le persone malate, che sono povere, meno povere, più o meno povere, ricche, ma sempre malate sono. Mi prendo tutti i miei dieci minuti. Secondo punto, sempre la Commissione Salute dà la sua preoccupazione riguardo non soltanto il sistema del finanziamento, ma anche aver vincolato i 2 miliardi aggiuntivi al patto della salute per il gennaio. E' inverosimile anche a detta di tutti i membri della Commissione Salute della Conferenza Stato-Regioni che per gennaio si possa fare il patto della salute e quindi chiedono che possa essere rinviato almeno a giugno. Ma detto questo, le spese che vanno affrontate, cioè quello che va postato in bilancio, va postato adesso. Adesso bisogna affrontare il tema del super ticket, adesso bisogna affrontare il tema del payback con una norma di governance del farmaco che va messa ora qui dentro. Adesso va affrontato il tema del finanziamento dei contratti dei medici, adesso va affrontato il tema dei contratti di specializzazione, dei farmaci innovativi, dei 60 milioni per ILEA e delle misure che sono necessarie. E' la prima volta che io vedo in una Commissione bilancio le regioni che non vengono a chiedere più risorse ma che dicono che gli vanno bene le risorse che hanno avuto. E' una novità incredibilmente, come dire, è una novella questa che noi ci troviamo ad affrontare. Spero che questo sia avvenuto in perfetta armonia tra chi rappresenta gli interessi del sistema sanitario e cioè tutte le strutture sanitarie che sono di pertinenza del sistema regionale e chi rappresenta invece una visione più complessiva del bilancio. Questa è una versione annosa, ma ora ce la ritroviamo qui. ce la ritroviamo qui. E io non sarei ridente se fossi un membro della Commissione della maggioranza ma mi preoccuperei molto perché il retto di cittadinanza non arriverà a giugno ai cittadini ma rischia però che i cittadini del sud non si trovano i farmaci delle proprie malattie. Mi sto facendo tantissime, i comizi li fate voi tutti i giorni quindi mi permetta ancora di non essere censurata e di portare le domande che voglio fare. Le sto dicendo cosa dovrebbe essere un ordinato svolgimento. Ecco, poi... Il disordine, Presidente, è quello che abbiamo visto nella scorsa legislatura con i colleghi che salivano sui banchi durante la Commissione Bilancio e non c'erano questioni drammatiche come... Fortunatamente perché noi siamo civili, Presidente. Lei fortunatamente per noi non c'era, le dico. Perché qui stiamo parlando, abbiamo avuto un'audizione drammatica oggi. Tutti gli rappresentanti delle istituzioni che sono venute qui hanno detto cose drammatiche. L'opposizione non sta salendo sui banchi con i cartelli. Sta ponendo questioni nel modo giusto in cui devono essere poste. Cioè con la dovuta gravità. E non c'è spazio per battute, Presidente. Guardi che... Guardi che...